Genova for Yachting questa tipologia di azienda che richiederà studenti universitari, artigiani, professionisti e quant'altro specializzati nel mondo dello yachting. Genova è al centro logistico del Mediterraneo, è uno dei più porti che si possano ottenere, ha le strutture migliori, le marine migliori, i cantieri migliori. Il ruolo dell'associazione è proprio quello di riportare Genova e il suo comune al centro di questo mondo e di eleggerla capitale del mondo dello yachting.